Punti di vista differenti che convergono su un tema di stretta attualità, l'inquinamento ambientale. A promuovere il dibattito l'Associazione Nazionale Avvocati Italiani, l'Ordine Forense di Avellino, l'Abbazia di Montevergine, Proloco e Città di Mercogliano. La Sala degli Arazzi dell'Oreto vede confrontarsi medici, avvocati, parlamentari e scienziati. L'inquinamento, una piaga anche nel paradiso terrestre della Verde Irpinia, così Maurizio De Tilla. La Verde Irpinia è un paradiso terrestre, però ci sta anche qui l'inquinamento. C'è la disattenzione. Noi abbiamo i dati che i tumori sono aumentati al 30% nelle zone a alto tasso di inquinamento. E anche se non è il 30% è una percentuale di aumento che si va intensificando. Ma quello che è grave riguarda bambini che hanno respirato i rifiuti tossici, però insieme ai rifiuti tossici abbiamo i rifiuti industriali, che sono tre volte tanto, perché non si pagano le tasse. Anche in montagna magari, tornando all'Ira. In montagna, perché c'è il sommerso, perché il sommerso comporta che non puoi denunziare un'attività, non la puoi registrare. Questo è un altro fenomeno molto grave che noi abbiamo denunziato. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a tutti.